ciao sono paolo viscalo vengo da treviso ho partecipato e sto partecipando al corso funnel con roberto la corte perché per me è una cosa nuova io e mio collega ci siamo interessati e quindi speriamo che di metterlo in atto perché sicuramente è una cosa per noi nuova non lo utilizziamo non abbiamo mai utilizzato a prescindere dalle solite cose che troviamo in giro nel mercato ritengo con un breve passaggio che mi farà roberto di metterlo anche in atto questo questa giornata che è stata anche molto preparata da lui e dal suo staff la ritengo utile a me personalmente credo anche gli altri colleghi ragazzi che ci sono poi con roberto noi ci conosciamo da parecchio tempo siamo un amicizia in comune a prescindere però lui è sempre uno molto molto aggiornato a differenza di tanti altri colleghi che girano attorno io parlo per la mia zona di treviso lo consiglio sicuramente a chi ne entra nel mercato da oggi o da ieri perché è una soluzione alternativa al solito che gira attorno al marketing ecco questo può dare dei vantaggi e naturalmente si diversifica dalle altre soluzioni che troviamo in giro iscriviti al canale